allora chiariamoci ci sarà dopo tre secondi la messa in onda diciamo così di questo mio video il classico ripetitivo estenuante non tanto estasiante per niente a me stasi a piacere solito dislike del mio hater preferito che proprio mi odia a morte ecco dicevo allora time cop la dovremmo smettere con marcel pros il tempo ritrovato anche se prost quello andò veloce però ecco il pilota della formula e io non avrei mai immaginato essere ritornato in forma come jean claude van damme allora questo è un mio innamorato pazzo non un pezzo un po da bismettico domato dovremmo avere la macchina del tempo per tornare indietro back to the future ritorno al futuro ma meglio forse time cop film di peter con jean claude ok scusate un attimo la macchina e si gli uomini macchine poi ci sono le macchine ribelli come in terminator 3 sono i personaggi un po ecco da domare ecco non non facilmente addormentabili dei leoni scatenati un po come adriano l'ho sempre sognato e adesso lo farò van dam la vendemmia pigiare l'uva e nella vita vi dicono sempre dai dai sei più forte ce la fai sentiamo questa battuta quindi lei mi assicura di questa macchina fare il lavoro di tre operai in metà tempo al cento per cento cento per cento cosa fa diecimila come mai la vita con espressioni da joker un po punk e jacquim phoenix ma anche jimmy fenomeno e viva l'idolo no 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 un certo 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 ok voglio recitarvi questo pezzo ok oh mi stavo spezzando il dito ok andiamo se riesco anche con questo andiamo se riesco anche con questo no più dura è molto dura allora da ragazzo si diventa se innamorati si perde di vista anzi un certo un certo spaccato sono appicci che prese il cognome di bruce che prese il cognome di bruce di bruce da un certo un certo e c'è un certo anche i bruci ecco, a differenza di quello che si possa credere Jason Scott Lee non fu e dunque non è il fratello di Brandon, ma siamo sicuri? non è che siano, sono furono apparentati ecco sì, lì forse qualche malafemmina, e torniamo alla scena della lettera di Totò Peppino è aperto la parente chiudi la parente allora, è aperto la parente chiudila, perché altrimenti non si sa di chi sia figlio, quello lì allora, il fratello di Brandon nemmeno fu e sarà mai il figlio di Bruce non so se sia un figlio di Putena di Putena, ma girò in seguito il Time Cop adesso voglio diventare anche un po' come lì di mio mi girano molto le pelle quando vedi Mia Sera farà l'amore l'attrice, quella lì, tutta la binghia sì sì, come una conghiglia con l'amore con Van Damme con quel paio di cosce Van Damme, sai come avrebbe pestato l'uva lì tutta la vulva fra l'altro mi saltarono per colpa di quella biome che mi rifilò una delusione più atroce di un galge di sticoli ecco semmai proprio mentre allora mi Stetti Stetti stava per fare per fare la spaccata ti presiede Van Damme apre tutte le gambe insomma, in partire i cosiddetti gemelli in Double Impact Van Damme interpretò due fratelli al prezzo di uno uno dei due si ubriacò di brutto quando l'altro li dedica a lui se la spassò quello che cos'è l'insegnante la supplende ripetendo gloria quella è più bella di gloria questa abbiota qui alone show io ho interpretato come si chiamava non mi ricordo è uno dei pochi film drammatici per la televisione che ho interpretato Volo Shushu Shushu era quello poi abbiamo a ciascuno i suoi suo Shasha torniamo alle palle in buche qui a Bologna quanto frequentavo le scuole erano tutti tifosi quella pallavolista quel cestista Shasha come si chiama Shasha Danilovic Shasha Danilovic era lui è sempre preferito quell'altro ha sempre avuto una dot personalità un po' Brad Palm l'attrice il protagonista del film con Chad Litkov che è Lolita Davidovic quello è molto meglio è meglio non si può dire molto meglio si lo dico è assai meglio è chiaro di questo allora oddio allora non so se tu sei un figlio di Putena e torniamo alla mia interpretazione diciamo l'anatore nel pallone io ho capito tu non sei né figlio di Lecce di Bibli tu sei proprio un figlio giro al seguito di Time Cup di mio mi girano molto le palle l'ho già detto lo rigiriamo ok vado scusate di mio mi girano molto le palle quando vedi mia Sara ah sì 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 invece sempre ai tempi delle scuole medie una mia compagna di branco di banco di nome Sara le cantava con Antonello Antonello Venditti non so se cantasse anche con Antonella non so se fosse lesbica che i gusti avesse ecco allora Sara svegliate prima perché quella ancora nonostante abbia la mia età quella proprio non si è svegliata proprio ecco allora quando vedi mia Sara farà l'amore con Madame mi saltarono per colpa di quella bionda che mi rifilò una delusione piattolosa di un calcio i testicoli semmai proprio mentre stetti per fare la spacca allora avevo già detto questo allora vedete che a volte deve essere un ripetente per forza allora insomma in partire i cosiddetti gemelli allora avevamo già detto eravamo rimasti Alon Alon allora Alon De Lon Alen Alen De Lon questa Alon è molto bella però con Alen De Lon ecco 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 ho visto la scena dire come c'è da tre quel da pazzo che cosa manca mi dica che cosa manca per essere Dio lo sapevo che deve partire la notifica del cazzo scusate vaffanculo vaffanculo che cosa manca per essere per essere come c'è Agnella Alen De Lon certamente certamente dice Massimo Troisi allora in verità fu tutto un suo trip da paranoico il personaggio di Alon 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 non di Alè di Alon non scopo ha fatto l'altro fratellino mentre l'eventuale cornuto omo zigote allora si dice l'infradito l'infradita e poi abbiamo ancora Eva Robbins Eva Robbins che cos'è un elmafrodito elmafrodito non conoscete l'italiano documentatevi siete gli ignorenti omo zigote sarò sarò solo le gottine perché un'altra birra scolò e soltanto si ingazzò così che tutto paunazzi in volto è più arrabbiato di Frank William Dukes di Bloodsport e forse anche più ingazzata di Rambo di First Bloods di brutto ogni cosa spaccò spacca tutto il cosa diciamo adesso faccio un po' Baris si crede che si è preso la botta in destra a quei tempi forse solo alla tempi come dice un mio amico Andrea si chiama perché lui è di bar e qua non abbiamo la gente che bar chi è? ok non so se sia stata colpa appunto di fighi botta fighi tantra occhi mia colpa dice Chong Li ma certamente divene la versione maschile di Gong Li Gong Li lì non suona mai Gong però l'incontro molto dura dura molto si quella di Lanterne Rosse e di chiedere Lanterne Rosse Gong Li Ang Li Ang Li Chong Li l'incredible hook vedete che torna l'E L-E L-E Ang Li l'incredible hook però quella di Van Verde proprio di Rabbi proprio Spack Fran Doob tutto il mondo e Fran Doob anche però nella versione di Ang Li c'è Jennifer Connell vedete sono tutti dei ricordi delle miniscenze c'era una volta in America ecco e allora da di che c'è c'era una volta a Hollywood ma fangullè quel cazzo di Bruce Lee dai e qua anche quel piaccio di Brad Pitt di brutto ogni cosa spaccò sì credo che presi una botta in testa allora vado se sto ripetendo sì allora che non no Gong Li quella di Lanterne Rosse che non si sa che minchia stesse 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 stette stesse aspettando forse Colin Ward ma è me vice pur Don Jones il suo bel Don Giovanni ecco allora insomma divenne abbastanza picchiatello come Jerry Lewis come il suo erete Jim Carrey no come Roy Jackson l'attore che finisce in ospedale perché ecco il Chong Li mazzet mazzet quando mazzet cornut mazzet beh allora con puri occhi da folle oppure semplicemente un po' innatamente incurabili da strabismo di venere osservate attentamente i miei occhi l'occhio di Pinocchio allora sì ne soffro dello strabismo di venere però di malattie venere ancora no però adoro il cibo afrodisiaco poiché sono un uomo dionisiaco è ovvio allora sì ne soffro per ora per quest'ora mi mancano due gradi a un occhio quello a destra o quello a sinistra poi nella torna del pallone c'è anche quello lì Andrea Ronghetto che è interpretato mezzo a destra mezzo a sinistra allora perché essendo il corrispettivo oserei dire antitetico ma identico si gemellare occhio leggermente asimmetricamente allineato rispetto a quello quindi mal calibrato diciamo ecco rispetto a quello di Christopher Lombard prima Christopher Lombard prima sembrava un po' come la sconsolata ricordate quando fu invitato beh allora Christopher Lombard Lombard una pupilla si sforzò troppo crescendo crescendo si sforzò troppo eh sì perché poi un tempo sono 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 poche le responsabilità un tempo è un tempo e poi il tempo delle mele poi può esserci il tempo del fisica pera è per questo che bisogna pigiare lui per tenersi sempre in forma come Adriano Celenteno e Chiano e forse come torniamo a quei film con Lino Benvi e Alvaro Vitale comunque poter pigiare l'uva ma anche ecco averlo sempre in mano e comunque lì c'è tutto il dimagrimento c'è tutta diciamo la spremuta ecco allora Lambert invece dopo essere stato come noi tutti qui per colpa del coronavirus 2013 no siamo al 2020 qua è la fortezza ecco adesso è stato Greystock la leggenda di Tarzan il signore delle scimmie e anche il signore delle scemi appunto si imbestiali più di King Kong con Alba Pariette sì sì con Alba Pariette lì lì sai come imbiangava tutta anche le parete diciamo Christophe aspettando l'albeggiare diciamo ecco anche le mie palle si sforzarono troppo a furia di adulti che reputandosi cresciuti ma ti accorgi che ha il cervello piccolo quanto sei piccolo non capirono quanto fossero ciechi loro e mica io e a non rendersi cotto che non furono niente affatto dei giganti come Andre the Giant no come uno che gli assomiglia gli assomigliò Gabriel Chissi 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 Chi siete Attila 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 ah vi scusate Attila quello lì l'ho detto me la tiro me ne tirai tanto di Lionheart sono Riccardo un uomo generoso e nobile la gente confonde Michel Chissi e chi che sia di Lionheart il quale interpretò Mustafa col suddettatore di Lionheart e dal cognome uguale spiccicato come si vuol dire che per l'appunto fu A-T-A A-T-A-T-A-L-A Attila ok ma Maron violenza ci vorrebbe attila flagella di Dio a come atrocità ti ti come vabbè conoscete ma dite me ci vorrebbe attila flagella di Dio volaranno fumano saette messi che sbulazzeranno tuone subocità battanduone sarottoni truande in vero questo Michel fu Tom Poe in Kickboxer mentre io senza mutande neanche in boxer no io scrissi pure il libro Kickboxing che è un sequel letterario metacinematografico quasi metafisico di un uomo a cui ruppero le gambe e che e scrissi se lo trovate digitate Kickboxing c'è anche il book trailer sulle maggiori catene liberali online e la maschera di Edgar Allan Poe Tom Poe Edgar Allan Poe a Bologna per cercare lavoro c'è il Bo e qui vicino passa anche il Fiume e il Po è chiaro? se non debasse così botte su Popo e e non rombo cazzo a mamma e papà è chiaro? a tutto fu trattato da miserabile da Victor Hugo no no vi dirò fantazzi Hugo come Jean Valjean ma adesso donne più sexy delle maggiori pornostar mondiali pensano che io sia più muscoloso di Jean Valjean Jean Valjean Jean Valjean Gillette il meglio di un uomo insomma questo qui le rock sifredi diciamo internazionali questo Jean Valjean Van Damme si fra questo Valjean Van Damme è tutta una vendemmia lì insomma la mia vita fu una tragedia va detto senza se e senza ma fu scambiato per Artuflech per Fantozzi quando invece a 40 anni sono più agile di Uma Thurman di Kill Bill e ho detto tutto no 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 non ho detto niente non ho detto niente anzi no morale della favola gli uomini e le donne crescendo si corrompono e se se tu sei troppo puro se siete troppo puri vi diranno ti dicono di non rompere non rompere ma sei proprio un coglione anzi ti urlano che te la racconti hai finito di mentire a te stesso tu te la suona te la canti te la suona te la canti per quanto mi concerne per quanto sia fantasioso o forse fantastico è bravo a inventarmi storie posso giurarvi che è tutto vero da la alla z nella vita non esiste che resista che resista che resiste chi è chi sia più colto più bello e più in gamba resiste chi ha i soldi e forse questi 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 porno attori non per essere pasoliniano però hanno capito voi noi non abbiamo capito un cazzo però loro loro arrivarono subito ecco a capire le cose poi può essere pure un demente non importa è il potere di la potente stai scherzando per fare quello che per farti quello che vuoi per fare per fare quello che vuoi che vuoi che vuoi che vuoi non ci sono altre verità il resto è una grande balla retorica e tutto ciò è più qui faccio come il retore Serville e tutto ciò è grande bellezza è più aggacciante del covid-19 lo so è abbastanza inquietante ma se vogliamo essere sinceri senza rascondermi e celarvi voi nelle menzogne non sono proprio il tipo da poesiole tenerini e neppure da campagnoli le mie poesie sono bellissime in quanto sono durissime ciò può inquietarvi e starvi sul cazzo e non sono cazzo che vi guardano ecco è sì credo che la versione reale della vera storia di Frank Hughes no della mia sia esattamente questa altre che follie stronzate varie schizofrenie fobie sociale du cazzo le persone sono più cattive di Chong Li oh sono pochissimi nella vita i veri amici che non ti tradiscono mai per esempio Bolo Yang Jung Van Damfour ne sono da sempre grandi amici sebbene Bolo sebbene solo io non sono più solo Bolo senza esclusione di colpi colpo basso però abbia voluto appannare la vista a Jean-Claude in quanto leggermente invidioso seppia sin dal principio che Jean-Claude fu ed è molto più forte di lui e ora le bosche però allora dovete usare uno stratagemo scorretto per abbatterlo e per batterlo e mi ha perso lo stesso anzi perso perdendo pure la faccia e comunque sia finite queste quarantene che pena queste quarantene ballose andremo tutti assieme a mangiare una focaccia questa vita è stata una faticaccia perché ricordate io non sono un uomo perfetto nemmeno lo voglio essere e poi non è tre il numero perfetto è cinque il numero perfetto è chiaro è cinque il numero perfetto vogliamo vedere qualche scena di Jean-Claude vediamo qualche scena di Jean-Claude ok vediamo qualche scena di Jean-Claude Jean-Claude Van Der Lionheart Lionheart è forte è fortissimo quello lì l'amico è amico è malfidato è un consigliere fratolento punta tutto su Attila è perde perde tutto non si aspettava però che fosse così forte Lionheart fratello io ho un uccino di secondo grado si chiama Lionheart quello sembrava ma quello è è dritto quello lì ha avuto già due o tre figli stai scherzando lo prendevano tutto per quelle invece quello quello ci dà è come sì sì è così sostanzialmente guardiamo questa scena che non è male signor non è proprio male vero signor bravo come on hit the slide beh ancora non sono ritornati in forma come Jean Claude però è tardi molto tardi molto tardi però cari miei cerebrolesi io nonostante tutto sono rimasto in leso voi siete rimasti indietro molto indietro tutto è di dietro signora e che ci vuole fare così andate così appigliate il culo e t'arrangio adesso insomma questa vita sostanzialmente è una grande stronzata bisogna prenderla con filosofia ok ci sono attimi bruttissimi bruttissimi maligonia poi di euforia poi di forforo chissà ma poi tutto va via è così secondo me Jean Claude Van Damme è un grandissimo attore è sempre stato un grandissimo attore sì sì è forte è forte Jean Claude è fortissimo è è imbattibile è invincibile è stato a scoprire perché è stato vederlo è stato vederlo è stato vederlo è stato vederlo